Gestire il personale Programmare la formazione Smaltire la burocrazia Misurare l'efficienza e la produttività delle persone Tutto questo oggi è più semplice, rapido, economico. Tutto questo è BRUE, la soluzione per la gestione delle risorse umane in tempo reale. GRUEWEB è il software che sfrutta i vantaggi di internet per integrare in un sistema unico la gestione del personale e l'efficienza dell'organizzazione. In pochi secondi e dal tuo smartphone sono disponibili decine di informazioni utili per migliorare la produttività e abbattere i costi di gestione. Con GRUEWEB è possibile pianificare le ferie del personale, richiedere giustificativi, calcolare presenze e assenze per mantenere elevata l'efficienza di un ufficio o di un reparto produttivo, Esportare dati per buste paga, rimborsi e trasferte Controllare il costo del lavoro per dipendente Gestire la sua carriera e l'aggiornamento professionale I vantaggi Zero costi di infrastruttura Attivazione immediata e gratuita Massima sicurezza dei dati Adattamento a qualsiasi contesto organizzativo GRUEWEB è indicato anche per situazioni particolari Rileva presenze di personale in mobilità Ideale per aziende di trasporti Ditte di manutenzione che occupano personale in trasferta Aziende agricole per i lavori nei campi E tutto questo in uno smartphone Gestire il personale, abbattere i costi, migliorare le performance della tua organizzazione Non è mai stato così semplice GRUEWEB Semplice, indispensabile, produttivo